Luca Veratti, ieri contro l'Albino Leff il debutto con la tua nuova squadra, vale a dire l'FC su Tirol, che impressione ti ha fatto questa nuova squadra che conosci da appena una settimana? Ha visto una buona squadra, abbiamo svolto una buona partita e so che vengono anche da tre risultati consecutivi, questo è il quarto. Una buona squadra, aggressiva, schierotto su ogni pallone e quando è l'ora di fare gol, fa gol. Quindi portiamo a casa i tre punti e fanno sempre comodo. Che contributo pensi di poter dare a questa squadra? Io cerco sempre di dare il massimo all'allenamento, poi se il mister ha l'intenzione di impiegarmi io darò il 100% e magari anche di fare qualche gol. Hai scelto il Tirol anche perché è una squadra, diciamo così, dal gol facile, è il miglior attacco del campionato, una squadra che mette gli attaccanti nelle migliori condizioni di fare il loro lavoro, cioè di segnare. Ma so che mi volevano anche quest'estate e quindi non ho agitato, appena ho saputo di queste notizie che mi volevano, a gennaio ho fatto le valide e sono venuto qua subito. Poi se mettono in condizioni anche l'attaccante di segnare benvenga, io cercherò di essere pronto lì in area. Ci racconti un po' di te, sei classe 1993, la tua carriera ancora molto giovane ma promettente, nella passata stagione sei stato vice capocannoniere del campionato Primavera col Bologna. Sì, l'anno scorso ho fatto un buon campionato, ho segnato 19 reti e devo continuare su quel tabellino di marcia. Quest'anno la prima parte di stagione ho avuto poco spazio a Salò e cerco di recuperare qualche minuto qua al Sud Tirol. Quali sono le tue caratteristiche precipo e sei una prima punta, no? Sì, sono una prima punta, forte fisicamente, ma anche se c'è da giocare la palla con i piedi penso di cavarmela abbastanza.